Fuori scuola venendo a recuperare i bambini siamo stati invasi da uno sciame di formiche alate le quali ci hanno attaccati e appunto dappertutto anche sotto i vestiti causando punture dolorosissime e che causavano bruciore tant'è che adesso la maggior parte dei genitori è sotto cortisone e antistaminici. Eccole le formiche con le ali che martedì hanno letteralmente assaltato il gruppo di genitori che attendeva i propri figli fuori dalle scuole elementari di Roncade. Il video è stato girato da una mamma che una volta tornata a casa e tolta la maglietta si è trovata ancora addosso agli insetti. C'era un passeggino soprattutto che era pieno veramente e sta mamma aveva questo bambino che avrà avuto due o tre mesi abbiamo detto guarda non metterlo neanche nel passeggino perché era completamente invasa da queste formiche. Mia moglie era fuori che aspettava la bambina appunto con la sorellina di un anno e anche lei aveva la bambina la felpa piena e lo stesso il passeggino era pieno di questi moscerini. È stata appunto a sua moglie? Mia moglie sì, fortunatamente la bambina no, hanno dovuto farsi anche una doccia di corsa perché appunto non sapendo poi il tipo di reazione che si può avere. Ci sono genitori che hanno contato sul proprio corpo fino a 30-40 punture dolorose al punto da costringerli ad una terapia farmacologica ma quello di martedì non è stato un episodio isolato. Mi è successo due settimane fa e sulla pancia io proprio mi sentivo un bruciore, un fastidio, avevo la maglia nera, ho alzato la maglia e dentro ero piena, cioè sotto ero piena di punture e avevo queste formiche volanti. Il timore è che gli insetti possano pungere anche i bambini nel cortile della scuola durante la ricreazione. Noi ci siamo rivolti al comune sperando che venisse preso in mano la segnalazione. Dalla sua il comune ha già segnalato la situazione all'Ulss2 che ha spiegato che si tratta di un fenomeno passeggero legato alle temperature calde e anomale per questo periodo dell'anno. L'azienda sanitaria farà tutte le verifiche del caso visto che gli episodi si sono registrati nei pressi delle scuole e la tensione è massima. La raccomandazione è di non schiacciare gli insetti perché altamente urticanti. Siamo in attesa delle indicazioni da parte dell'Ulss, spiega la sindaca Pieranna Zottarelli. Intanto abbiamo già allertato la ditta che si occupa delle disinfestazioni nel caso sia necessario un suo intervento.